Maretta è in seno all'amministrazione comunale di Agropoli. Motivo? Le dimissioni ormai vicine del vice sindaco Vanna D'Arienzo e la necessità di nominare un nuovo componente dell'Aggiunta. La delegata alle politiche sociali tra qualche settimana sarà costretta a lasciare il posto, non per una mancata condivisione delle idee dell'esecutivo, bensì per motivi di lavoro che la renderebbero incompatibile con il ruolo di amministratrice. Un passaggio che sarebbe imminente è considerato che a Palazzo di Città si stanno affannando per individuare un sostituto. Nella scelta sarebbe coinvolto anche il presidente della provincia Franco Alfieri, il quale, da riconosciuto leader territoriale, avrebbe indicato la strada alla maggioranza guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Due le condizioni da seguire, la prima di natura politica. Se va via un assessore eletto nel PD, tocca ad un altro DEM prendere il suo posto. La seconda regola l'ha detta la legge. Il rispetto delle quote rosa impone infatti che siano almeno due le donne in giunta. A nessuno dei due parametri rispondono contemporaneamente i consiglieri eletti. L'unica donna in assise è Elvira Serra, che però non è PD. Dunque bisognerà ricorrere a un assessore esterno e il nome più quotato è quello di Alessia Stone, prima tra i non eletti nella lista dei DEM. Il suo nome era emerso anche nel 2022 quando D'Arienzo rassegnò per la prima volta le dimissioni. In quel caso sì, per contrasto con l'ente. Eventuale nomina di Astone non risolverebbe il nodo vicesindaco. È certo che tale carica non andrà all'assessore Roberto Apicella, che molti osteggiano considerato che ha avuto già troppo spazio e potere da Mutalipassi. Scalpitano Rosa Lampasona, Giuseppe Di Filippo ed Emidio Cianciola con la prima, che però risulterebbe favorita. Ancora non è chiaro quando vanno ad Arienzo a lasciare gli uffici di Piazza della Repubblica, ma l'amministrazione comunale di Agropoli non vuole farsi trovare impreparata.